in guerra Da nome di Tasnella, il piacere più leggero che ci sia Dopo il caso di Bella che proprio noi sollevamo l'anno scorso con le storie di Verissimo torniamo a parlare di medicina alternativa Il film Per salvare Olivia è la storia di una ragazzina affetta da un tumore che rifiuta la chemioterapia per tentare un'altra strada e non è la sola, in studio parleremo con la madre di un ragazzo affetto da tetraparesi, dalla nascita e guarito attraverso la bioenergetica cercheremo di capire in cosa consiste e soprattutto se in questa cura si può sperare vi aspetto domani sera con le storie di Verissimo Top Girl di marzo, non ci sono per nessuno va di moda il trucco spaziale labbra argentate i backstreet boys il carattere del tuo ragazzo si può cambiare magari Top Girl, il mensile più trendy per le teenagers a sole 3.800 lire Top Girl, Top You Ho provato di tutto, creme, detergenti, ma mi vedevo sempre un po' opaca poi ho scoperto smacca acciaio lo uso tutti i giorni perché rimuove lo sporco senza graffiare e grazie alla sua formula antiopaco col smacca acciaio mi rivedo come quando il mio acciaio era nuovo nuovo smacca acciaio ogni giorno vince lo sporco, brilla l'acciaio dal regista premio Oscar Clint Eastwood questo posto è fantastico, è come un via col vento alla mescalina la scena era contraffatta, stile esecuzione il premio Oscar Kevin Spacey e John Cusack mezzanotte nel giardino del bene e del male Cloralit, quell'irresistibile freschezza a prova di pace ehi voi, dove credete di andare? nel ferro da stiro da quando ci sono qua io i pezzi di calcare come voi del Titanox non c'entrano più ma tu chi sei? sono Zero Calc, il nuovo filtro sono fatto di una resina particolare che distrugge le particelle di calcare come voi torniamo sabato prossimo che c'è uno che conosco il filtro Zero Calc non si sostituisce nemmeno il sabato Titanox Zero Calc Zero calcare, tutto vapore è la morbidezza che lo rende diverso per donne che amano sentirsi protette la morbidezza di lì ne si idea l'unico con il filtrante idea morbido come cotone senti la differenza ti dà la protezione l'ines e la morbidezza idea e con la sua straordinaria assorbenza aiuta a proteggerti dalle macchie laterali l'ines idea ti protegge in un morbido abbraccio scrivere per scrivere non basta l'ispirazione ci vuole metodo, tecnica, esercizio per questo c'è scrivere un corso di scrittura creativa e un concorso letterario i migliori racconti pubblicati sul Corriere della Sera scrivere in edicola sole 1000 lire pasta del capitano la conquista del bianco pasta del capitano buona la mortadella, vero? eh? è la Veroni che vita è ma come ho fatto ieri a fare tutto senza di te nuova Seat Arosa un salto di classe K-Logs Special K speciali per stare in forma benvenuti nel più avanzato impianto di produzione del mondo dove i tecnici Intel stanno realizzando il processore Pentium 2 il processore è il cervello del computer e ne controlla tutte le funzioni principali allora se vuoi essere sicuro che il processore Pentium 2 sia all'interno del tuo prossimo PC controlla che ci sia questo marchio porti gli occhiali vorresti le lenti a contatto? prova il comfort di One Day Acuview da Johnson & Johnson sono ultra sottili e morbide con One Day Acuview avrai lenti nuove e fresche ogni giorno e fino al 31 marzo dal tuo ottico optometrista grande iniziativa soddisfatti o rimborsati per acquistare le lenti a contatto in tutta tranquillità chiedi il regolamento al tuo ottico optometrista prova il comfort di One Day Acuview è un dispositivo medico leggere attentamente le istruzioni gli asciugoni regina sono lunghi quasi il doppio degli altri ecco perché assorbono molto e molto a lungo asciugoni regina non finiscono mai olio di mais cuore impasta cuore mangiar bene per sentirsi in forma cucinare bene è il nuovo giornale che ti aiuta a cucinare ogni giorno risparmiando tempo soldi e fatica fare bene alla spesa organizzarsi in cucina idee e trucchi 110 ricette facili con costi e calorie cucinare facile 3 modi per fare gli involtini 12 ricette da fare in 10, 20, 30 minuti tutti in linea in famiglia con i gustosi maccheroni radicchio e spinaci e vitello al latte per i principianti omelette ecco come farla riuscire sempre bene mangiar sano riso con peperoncini e il menù per digerire bene cucinare bene tante idee a sole 2000 lire con tanta vivacità in casa mia non ci si annoia di sicuro ma l'igiene non è un problema per me perché uso l'isofor bagno un gel che rimuove i residui di sapone è il livello di calcare e siccome è l'isoform fa molto di più disinfetta e io posso stare davvero tranquilla nuovo l'isoform bagno pulito sicuro fresco e disinfettato sai cos'è che mi hanno detto di Ringo? che adesso c'è ancora più crema per me è solo che è molto più buona ancora più crema ancora più goloso a merenda vince Ringo è tutto Gio grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.